Secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, il centro abitato più inquinato d'Italia e il secondo in Europa è Cremona. Il riferimento preso in considerazione dall'ente è la concentrazione di polveri sottili presenti nell'aria tra il 2019 e il 2020, partendo dalla soglia limite indicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, di 10 microgrammi di polveri PM2,5 ogni metro cubo d'aria. I motivi? Sono diverse le realtà produttive che hanno un impatto sull'ambiente. Dal passaggio dell'autostrada A21 all'inceneritore, dal consorzio agrario alla Ceeri Arvedi, seconda in Italia dopo l'ilva di Taranto. Su questo argomento è stato realizzato un video dai giornalisti di Fanpage, tra cui Davide Arcuri. Siamo rimasti sballortiti dalla situazione che abbiamo trovato, abbiamo visto persone che vivono con un parco Rottami a 80 metri da casa, con un rumore continuo da mattina a sera, oppure verso la zona di Spinadesco abbiamo visitato questa persona che a casa sua raccoglie questa polvere sul balcone che resta attaccata alla calamita. Quindi è una situazione abbastanza critica. La cosa più assurda per loro è la normalità, è la quotidianità di vita della loro casa, delle loro abitazioni. La città del Torrazzo però non ha ancora uno studio epidemiologico completo che risponda alla domanda degli effetti sulla salute dell'inquinamento. Questo studio preliminare è iniziato alla fine del 2016. Gli indicatori sanitari più evidenti riguardavano l'ospedalizzazione delle patologie respiratorie, l'ospedalizzazione per tutti i tumori, le leucemie, anche i tumori polmonari. Queste patologie sono delle patologie di cui la letteratura scientifica ha sodato ormai un nesso di causa tra l'esposizione a determinati inquinanti e l'insorgenza di certe patologie. I dati dicono però che l'aumento di diverse patologie ha avuto conseguenze dolorose per i cittadini, come accaduto all'ex sindaco di Bonemersi. Mia figlia aveva 44 anni quando è morta, quindi perché stiamo morendo così tanto, no? Perché ci sono questi casi di tumori? L'altro aspetto che ci ha lasciato sbalorditi è invece il silenzio assordante da parte delle istituzioni. Quindi a partire dal sindaco che ci dice che vuole incontrare i cittadini, ma solo in presenza dell'azienda. Passando poi per invece il parlamentare locale della zona eletto a Cremona, che invece dice che secondo lui è tutto a norma e che sicuramente non si può chiudere, non si può intervenire. Io che sia una delle province più inquinate d'Europa vorrei una certificazione a riguardo. Carvel è stata importante anche per lei, noi sappiamo che ha finanziato nel 2018 la sua campagna elettorale con 50.000 euro. Certo. Lei pensa che il finanziamento della campagna elettorale possa essere l'impedimento alla cosa? No, quindi per l'appunto. Una situazione delicata dal punto di vista ambientale per Cremona. Una situazione che lascia bocca aperta e speriamo si possa arrivare a dare delle risposte a queste persone che sono preoccupate per la loro salute.